Si è parlato di PNRR e acqua, il tema è di scottante attualità, lo era pochi giorni fa per la seccità, lo è diventato per gli eccessi, il programma europeo ci offre delle opportunità enormi per affrontare questi problemi. Io ho parlato di una parte che riguarda la ricerca, ci sono degli operatori che invece sono impegnati negli investimenti, era importante che ci parlassimo ed è importante che continuiamo a parlarci affinché l'efficacia di questi interventi sia la maggiore possibile che è una cosa di cui il nostro paese ha estremo bisogno. Grazie